eccoci qua eccoci qua a parlare in modo così una serata extra cioè una serata extra un breve breve video extra molto breve in confronto alle puntate un breve video extra su dialoghi sperimentali vedete alla mia sinistra Derek che dorme un piede mezza gamba di Alessandro allora io sono Donatella Bartolomei immagino lo sappiate e se non lo sapete ben trovati che cos'è dialoghi sperimentali è un ciclo di trasmissioni a me piace chiamarle trasmissioni come se fosse uno delle trasmissioni televisive o radiofoniche no vabbè in questo caso televisive perché sono anche visibili sono delle trasmissioni online su YouTube le trovate sul mio canale abbiamo registrato fino adesso le prime quattro serate o puntate o episodi o incontri chiamateli come volete mercoledì 14 aprile registreremo e poi metteremo subito in linea il quinto e successivamente andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti finché ci andrà in dialoghi sperimentali si parla di sperimentazione musicale vocale teatrale e sonora partendo dai nostri dai nostri stessi progetti è stata una mia idea sono partita da queste tematiche perché sono le tematiche che io tratto in un unico modo di lavorare in un unico mondo in un unico universo in un unico atto poetico nel senso che non distinguo non è che faccio sperimentazione vocale sperimentazione teatrale cioè è tutto legato assieme per me sono partita da questo a questi miei ambiti a me cari ho invitato cinque musicisti sperimentatori con i quali io sono in contatto persone che sono a me care ora ve li presenterò brevemente musicisti con i quali c'è empatia c'è abbiamo appunto fatto delle cose insieme dei progetti musicali passati presenti e spero anche futuri insieme e abbiamo creato questo piccolo gruppo siamo in sei con i quali creiamo diciamo il nucleo di dialoghi sperimentali le prime tre serate sono state così diciamo generiche dalla generiche non vuol dire da poco è generiche intendo dire che non c'era un tema specifico dalla seconda puntata abbiamo incominciato anche inserire contributi audio e video e il lavoro comunque sempre partendo da noi perché nel calderone sperimentazione c'è fin troppa roba è strano a dirsi ma fin troppa roba in un mondo desertico è particolare come cosa ma affronteremo questo tema dunque chi sono i miei compagni di viaggio in ordine del tutto sparso Dan Alessandro Sabatta l'autore del progetto sonoro musicale elettronico adesso io sto dando delle definizioni così ma vi invito ovviamente all'ascolto dei miei compagni di viaggio eh il progetto si chiama Orda Ordalia per pronunciarlo nel modo adeguato Ordalia eh con il quale io collaboro sin dal 2008 e con il quale ho creato la mia amatissima nostra amatissima sguardo di luna eh in tutte le varie versioni eh che ho sia registrato che portato dal vivo eh Dan Alessandro Sabatta viene da Perugia anche se è un un cittadino del mondo non viene esclusivamente da Perugia ma comunque è lì che ci siamo diciamo eh conosciuti eh lì che ha vissuto molti anni e ora è a Bologna come collocazione geografica eh Carlo Noè Carlo Noè il cui progetto è Camps in Daia un pioniere eh se vogliamo della sperimentazione che io chiamo super contemporanea perché è un pioniere dagli anni degli anni ottanta eh musicista polistrumentista eh che ha creato un progetto che prima da prima era una band poi successivamente è diventato un progetto solista e che ha sempre avuto il marchio della sperimentazione su di sé provincia di Milano come ho detto come collocazione è stato il primo gruppo nel quale io ho cantato all'età di diciotto anni ed è un artista con il quale ho collaborato anche in anni recenti e continuo a collaborare tra i vari brani vo 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 ta che è il brano inserito l'unico brano anche strumentale che è inserito nel mio album Sacra Dea prodotto da Atenwerft eh Martin Schmidt eh ad Augsburg in Germania eh Alessandro con ed era di cui vedete ogni tanto delle mani una gamba eccetera eccetera lì vicino a Derek che c'è non c'è in questo momento in questa presenza assenza Alessandro con ed era in realtà è il mio compagno eh come potete vedere che è lì sul divano e in un periodo in cui appunto eh se non fossimo conviventi probabilmente non sarebbe qua ehm Alessandro con ed era il suo progetto solista spazio profondo il suo progetto con me alchimia nova eh sonorità sperimentali elettroniche ma anche suoni provenienti dalla natura registrati eccetera eccetera con i quali crea una sua dimensione particolare e una dimensione con me nel progetto alchimia nova io voce ovviamente abbiamo di recente eh prodotto pubblicato in Germania con l'etichetta attenuation circuit di Sasha Stadlermeyer il nostro album alchimia nova. Ecco sto dando dei dati spot così eh eh molti brani creati assieme non ne sto a citare nessuno in particolare in questo momento. Ah se non su YouTube che se siete su YouTube se volete sul mio canale potete vedere due video recenti di alchimia nova preludio underground dalla poesia preludio di Emilio Praga eh manifesto dei poeti scapigliati in una versione eh così appunto da me cantata sperimentale eccetera e ehm red and blue voices eh eh sono due video che potete trovare sul mio canale di YouTube di Alchimia Nova. Poi Ali Salvioni il cui progetto si chiama Settore Giada. Ali Salvioni viene da Zurigo quindi l'unico artista estero diciamo così del nostro piccolo gruppo eh anche se il progetto Settore Giada è prevalentemente cantato in italiano perché eh i suoi brani contesti eh che io ho sentito mh sono per la maggior parte in italiano ci siamo conosciuti mediante una radio che trasmetteva un brano su un brano mio mi sembra nel 2013 se non sbaglio eh abbiamo iniziato a collaborare nel 2014 con una una coppia diciamo di fortunati incontri e diciamo è stato bellissimo essere invitata da lui a Zurigo con ehm presso ehm presso un cinema mi ricordo un posto bellissimo eh di cui ora mi sfugge il nome mi sembra Uto Cult qualcosa del genere e abbiamo fatto un concerto assieme abbiamo fatto dei brani assieme primo fra tutti che io adoro Assim un brano particolarissimo in linguaggio arcano da lui suonato poi ci siamo rincontrati al Festival delle Arti di Venezia e via dicendo grandissimo artista polistrumentista eh musicista professionista che poi ha anche altri progetti tante altre cose eh che fa a livello musicale di vario genere Enrico Cerrato il cui progetto sperimentale si chiama Petrolio con Enrico ci siamo conosciuti credo forse più di recente mi sembra nel 2016 o nel 2017 io e Alessandro siamo andati a un suo concerto a Vercelli lui è di eh Asti Astigiano siamo quindi siamo in collocazione in Piemonte e ha questi questo progetto affascinante che non riesco a definire proprio perché molto sperimentale di sonorità particolarissime eh spesso scure ma non solo eh abbiamo fatto un brano insieme dal titolo impronunciabile non riesco proprio a pronunciarlo c'è anche il video su ehm il video vabbè diciamo che non è un videoclip ma l'ha formato video su YouTube come anche di Asim vabbè e di altri brani anche già prima citati e è uscito di recentissimamente un suo nuovo album molto molto interessante eh credo di averli citati tutti manco solo io eh quindi Dan eh eh Carlo Alessandro Ali Enrico Donatella Bartolomei collocazione provincia di Milano ehm come anche Alessandro come anche Carlo i miei progetti sperimentali sono Voce Sacra Dea Luna e con Alessandro Alchignanova eh cito anche un altro progetto non del tutto sperimentale ma sicuramente che molto ha di sperimentazione che è Saraband De Tenebre insieme al musicista musicologo e filosofo e lo dico sorridendo perché eh è una persona splendida eh Alessandro Peroni ecco mh la sperimentazione fa parte proprio del della mia vita ormai ecco e la prossima monografia quella del quattordici aprile sarà dedicata a me e io sono molto felice ed emozionata non vedo l'ora di registrarla non vedo l'ora di trovarmi con i miei compagni di viaggio a condividere con loro questa serata eh la precedente credo di averlo detto è stata di Carlo Noè su Carlo Noè Camps in Daia e poi le future saranno su eh tutti gli altri del nostro gruppo ehm dopo le monografie ci saranno altre serate altri temi altre cose un'anticipazione sola fra molte la serata o le serate filosofiche eh perché dico la serata o le serate perché a seconda degli invitati che aderiranno potrebbe essere una serata sola oppure due perché non ci mettiamo mai in troppi io ci tengo eh che appunto eh i partecipanti della serata abbiano il riflettore su di sé che ognuno riesca a essere protagonista della sua storia perché ma non per un fatto di ego ma per un fatto di mettere mettere in risalto cose belle importanti affascinanti e che non sfugano così all'improvviso nella chiacchiera fra molti eh serate filosofiche sono serate in cui parleremo in modo specifico degli aspetti filosofici poetici eh esoterici simbolici del mondo della sperimentazione di cui ci occupiamo insieme a persone che non sono necessariamente degli artisti sperimentatori ma che entrano in questo mondo per altri aspetti eh culturali principalmente di vita vissuta chi per concetto dell'arte che cura per esempio di cui io mi occupo chi per concetti filosofici esistenziali per avere fatto collaborazioni con qualcuno di noi e per altri motivi quindi le serate filosofiche saranno altrettanto interessanti e affascinanti e dopodiché tante altre cose altri ospiti in vista altre tematiche eccetera eccetera rimanendo in questo aspetto di realtà artistica oltre confine partendo ripeto da noi stessi eh volendo citando colleghi citando grandi maestri ma stando attenti a non finire in un calderone di tutto e nulla ma qui mi fermo io vorrei semplicemente quindi invitarvi alla serata intanto la prossima del quattordici aprile dedicata alla mia monografia che sarà visibile online da dopo la registrazione la registrazione avviene mercoledì quattordici tra circa le venti e trenta e le ventidue trenta grosso modo le nostre incontri durano sempre tra un'ora e tre quarti un paio d'ore circa e però vi invito già se non avete visto andare a vedere sul mio canale i primi quattro incontri di dialoghi sperimentali già presenti e visibili liberamente e gratuitamente chi volesse contattarci per questi per queste serate per qualsiasi domanda interesse colleghi appassionati eccetera eccetera trova diciamo la descrizione sotto ad ogni video nel quale io ho messo anche il mio indirizzo email per i contatti e ovviamente i link dei vari artisti nelle puntate generiche c'è un link a testa nella puntata dedicata la monografia dedicata al singolo artista ci sono più link dello stesso artista messi in maggiore spicco diciamo in maggior risalto proprio perché è il protagonista della serata bene io vi ringrazio e così dialoghi sperimentali continua dialoghi sperimentali è stata un'idea ripeto è qualcosa di molto informale vuole essere qualcosa di molto vero molto autentico nel quale ognuno di noi si racconta nel quale tra di noi ci scambiamo pareri opinioni suggestioni adesso ci sono anche stanno nascendo dei nuovi progetti tra di noi collaborazioni tra di noi è tutto molto bello è tutto molto bello perché poi soprattutto in questo periodo in cui non si possono fare concerti ci sono tutta una serie di limitazioni si riesce anche mediante questo mezzo virtuale a fare qualcosa di costruttivo di creativo ed interessante su cui invitiamo tutti a riflettere perché l'arte perché la musica il teatro diciamo il mondo diciamo della così dello spettacolo da andare a vedere da approcciare non sia solo e sempre mero intrattenimento ma che sia qualcosa che ci fa star bene e ci è utile a livello animico a livello profondo a livello di cuore io ricordo colgo l'occasione per ricordare che io oltretutto tengo dei corsi propongo dei corsi e degli stage in questo periodo anche corsi virtuali sul mondo della sperimentazione proprio perché nuove persone che vogliono affrontare la sperimentazione vocale la sperimentazione teatrale sonora possano avvicinarsi a ciò e anche alessandro alessandro con ed era e sta ciclicamente periodicamente lanciando la sua proposta di del corso sulla sperimentazione sonora per principianti io per quel che mi riguarda approfitto per lanciare il mio nuovo percorso online in questo momento ma che potrà poi essere anche un corso in presenza alchimia espressiva che riguarda proprio la creatività e l'espressività a 360 gradi per appunto svolgere un lavoro su di sé e per favorire i propri talenti e qui mi fermo vi ringrazio e a presto sempre con dialoghi sperimentali grazie grazie a tutti grazie a tutti